Insultato e preso pugni da un passeggero che non voleva indossare la mascherina. È quanto successo all'autista di un autobus di Pavia, rimasto vittima di un'aggressione nei giorni scorsi nel piazzale della stazione. L'uomo ha notato che il passeggero, a quanto risulta di origine straniera, stava salendo sul mezzo senza la mascherina e lo ha fermato. Ne è nata una discussione piuttosto accesa che si è presto trasformata in un violento litigio. Il giovane senza mascherina ha colpito con alcuni pugni l'autista e poi è scappato, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Non escluso però che si possa risalire alla sua identità attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nei giorni scorsi, tra l'altro, si è verificato un altro caso in cui il passeggero di un mezzo pubblico non ha voluto indossare la mascherina. L'episodio è avvenuto a carbonare al ticino su un pullman. L'uomo si è seduto e si è rifiutato di allontanarsi o di mettersi la mascherina FFP2, di fatto obbligatoria fino al 30 settembre sul trasporto pubblico locale. L'autista del mezzo non ha potuto far altro che fermare la corsa e chiedere l'intervento dei carabinieri. Il pullman è rimasto fermo per circa mezz'ora fino all'arrivo delle forze dell'ordine. I militari hanno poi fatto scendere il passeggero e lo hanno in seguito denunciato per interruzione di pubblico servizio.